Scezione? Sì. In continuare. In parte adesso il regolare questa settimana, batte in via, che è Marsini, poi Monegaldo, Zorlega, Tramante in quarta posizione, ancora Marsini, Monegaldo già, Tramante si mette in terza per andare a recupero, Marsili pure invece con un leggero margine di un bacio filo, cruttetto quasi 15 metri per lui all'esterno, adesso Bravante per prendersi, forse la seconda posizione sono più di 100 metri per loro, Marsili in solidaria, Bravante in seconda posizione, Sarlenca ci trova all'interno ed è Marsili e Bravante che accendono alla fase successiva, posizione, posizione, passata, partenza, posizione, fermarsi, ed è partita questa seconda batteria ed è subito duelle per la prima posizione ed è Sargoni a prendersela Bernabéi in seconda quindi duelle ancora Bernabéi all'esterno per prendersi la prima posizione poi è Sargoni, Prigini, Bernabéi queste le quattro posizioni si sta duellando per ancora prendersi la posizione penso sia Perigini Perigini adesso dovrebbe in prima posizione con la prima pagina della Paggia quindi si viene a fare la seconda posizione Perigini in seconda Bernabéi di Perigini e Bernabéi Giacomo sono due atleti che passano alla fase successiva attenzione a fermarsi ed è partita a regolare questa batteria ed è Ammazza in prima posizione segue in scia vediamo la treta Angeletti quindi in prima e seconda posizione Ammazza Angeletti poi il bidone Salino ancora Ammazza Angeletti con un leggero margino di ventaggio sulle prove del bellissimo siamo andati a regolino adesso alla rio ancora immariato le due posizioni di testa così come la terza e la quattro si va all'uscita di Perigini a spintare per gli due di cento metri di Giacomo passano alla semifinale ed è volata per Magza e Angeletti rispettivamente prima e seconda posizione in posizione falsa partenza di fermare parto adesso regolare questa quarta e ultima batteria ci può dall'esterno Magiorca prendersi la prima posizione C10 poi il duo Bellusco in seconda è in pezzo subito Magiorca in prima settimana da preso tre maschi in seconda con un leggero margino di vantaggio sugli altri due ancora Magiorca Magiorca tre maschi sono le prime due posizioni si va allo sprint per questi ultimi cento metri vediamo il duo posto per la semifinale che esiste la fiesta del Boschia quindi è Magiorca e Baroni scusate in seconda posizione grazie 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 grazie